Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, ieri sera, per chi ha avuto modo di ascoltare il video, vi avevo promesso che oggi sarei venuto a Milano in uno degli hub più grandi d'Italia, si chiama Scintille, è in zona fiera, per rendermi personalmente conto di come stava la situazione, perché si è subito sentito che c'è un grande affollamento, che addirittura in certe città hanno dovuto aprire subito altri hub perché la gente era tanta e quindi un hub solo, mi riferisco in particolare a Napoli, non era in grado di soddisfare la richiesta delle persone. Ero obiettivamente, onestamente abbastanza scettico, sono venuto oggi qui, sono qui in zona Scintille, però vi dico la verità, una volta entrato, perché funziona così all'entrata, proprio in strada, se così si può dire, sul piazzale, voi non trovate coda o affollamento, la gente riesce abbastanza tranquillamente ad entrare. Quando uno poi entra, prende un numerino, gli viene consegnato un numerino per il proprio turno. L'apertura era alle ore 14, io mi sono presentato pochi minuti dopo, si può dire, alle ore 14, anche se ho l'impressione che l'hub abbia aperto anche molto prima, delle ore 14, e insomma il numerino che io ho preso è il 288 e quindi avrei dovuto aspettare almeno 30-40 minuti, il che anche da un punto di vista tecnico era difficile per fare il video, perché all'interno te lo vietano, non puoi riprendere, perché adesso almeno qui a Milano sono estremamente rigidi. Ovviamente l'avevo già studiata, che una volta entrato dentro l'hub avrei messo, avrei nascosto il cellulare che riprendeva, che faceva il video per farvi ascoltare, soprattutto la cosa più importante l'audio, perché avevo l'intenzione poi anche al medico di fare alcune domande e soprattutto di chiedergli ma come mai, scusi, se due o tre giorni fa Massimo Bassetti ha detto e ha sconsigliato di fare adesso il vaccino, c'è così tanta gente, lei cosa ne pensa? pensa che abbia ragione, Bassetti e insomma fare alcune domande per capire qual era l'orientamento del medico. Ma voi capite che sarebbero passati molti minuti e questo sarebbe stato un po' tecnicamente difficile da gestire. Però quello che adesso vi volevo dire, come vedete io non sono mai qui per raccontare una verità che mi piace. Questo è un qualcosa della quale noi ci dobbiamo convincere. Noi dobbiamo, e io in particolare ovviamente in questo caso, vi racconto la realtà. A me non interessa se la realtà ci piace, ci piace di meno, ci convince, non ci convince. Io non sono qui per dirvi le cose che so perfettamente che vi esaltano, che vi piacciono. Io sono qui per raccontare una verità che talvolta può essere anche scomoda. Sono qui per dirvi quello che è il mio punto di vista, la mia posizione e vi ho sempre detto il giorno che io dovessi accorgermi che siamo tutti d'accordo vuol dire che c'è qualcosa di malato, di sbagliato anche da un punto di vista della democrazia. Perché è evidente che il confronto è costruttivo se ci confrontiamo anche partendo da punti di vista diversi. E la verità di oggi è una molto semplice. Io sono rimasto sorpreso perché francamente vi dico mi aspettavo una minore affluenza e anche adesso che sto controllando l'entrata delle persone è un continuo. Cioè le persone continuamente stanno entrando dentro questo immenso hub che c'è qui in zona fiera e ho avuto modo poi di parlare anche con un addetto all'entrata che mi dava alcuni numeri. Mi diceva che il primo giorno era stato piuttosto a rilento, 400 era il dato che loro avevano ma già l'altro ieri erano 2000-2002 e ieri ci sono state 2400 persone che sono venute per vaccinarsi. Quindi quello che va detto in grande onestà che purtroppo, io dico purtroppo dal mio punto di vista, le persone non continuano realmente a capire e non capiscono soprattutto al di là di come uno la possa pensare sui vaccini che sicuramente, e su questo ormai ci sono pochi dubbi e siamo confortati da questo punto di vista anche da scienziati come Crisanti e come Bassetti, che vaccinarsi adesso, fare adesso la quarta dose ha poco poco senso. Perlomeno lui dice che bisognerebbe aspettare il nuovo vaccino. Voi sapete che per me il problema non è mai stato e non deve essere, attenzione, giusto sbagliarsi, sbagliato vaccinarsi, ma è il rispetto delle libertà di ognuno di noi. Ognuno di noi deve essere libero di poter scegliere. È evidente che questa libertà non esiste, nel momento in cui determinate cose vengono rese obbligatorie, nel momento in cui per lavorare ti obbligano ad avere un green pass e nel momento in cui c'è una tale propaganda in questo momento che è evidente che le persone più fragili, ma io non intendo solo da un punto di vista fisico, ma anche intellettuale, di preparazione, subiscono questo che io chiamo un vero e proprio lavaggio del cervello. Quando vi è detto che l'altro giorno il messaggio che passava in radio era vai subito a vaccinarti e fai un'estate tranquilla e serena, voi capite che questa è una forzatura, è un tentativo di influenzare nella scelta le persone, l'opinione pubblica e questo è profondamente scorretto. E l'altra cosa che volevo sottolineare, anche per quanto riguarda gli scienziati, io non vado per simpatia, io non è che do ragione o torto a Bassetti oppure a Crisanti perché mi sono simpatici o antipatici. Io ho pesantemente, e voi lo sapete, criticato Matteo Bassetti in questi mesi, in particolare quando lui in maniera vigliacca ha attaccato Montagnier definendolo un rincoglionito affetto da demenza senile. Ma in questa circostanza dove lui dice che per lui è assurdo che si vada in questo momento a vaccinarsi, perlomeno uno dovrebbe aspettare il nuovo vaccino studiato su questa variante, perché il vecchio, ricordiamocelo sempre, è studiato sul virus di Wuhan. Ecco, questo messaggio non viene passato da parte della maggior parte del mainstream. Bassetti ha avuto qualche apparizione ultimamente dove ha sottolineato questo punto di vista, ma in tutte le altre circostanze dove Bassetti non era presente e lo stesso Crisanti, i presentatori non hanno fatto riferimento a questa sua posizione. Ma stanno coinvolgendo, come è successo ad esempio anche stamane, la dottoressa Villa, quelli che sono convinte che è giusto continuare a vaccinarsi e che bisognerà farlo tutti gli anni. E lei ha sottolineato probabilmente ancora di più che per il vaccino influenzale due volte all'anno. Capite? Questo è l'orientamento folle di alcuni scienziati, ma è quelli, diciamo che sono un po' i nuovi che si affacciano alla ribalta della comunicazione. Anche perché io ho un po' il sospetto che i vecchi, i Galli, Pregliasco, i Crisanti, i Bassetti hanno un po' di timore un domani di essere attaccati perché stanno venendo fuori le verità. Qualcuno le racconta, come ha fatto Crisanti che ha sottolineato che non erano e non sono i Novax a morire, ma sono gli anziani affetti da patologie pur se vaccinati. Quindi in conclusione, vedete, io avrei qui potuto fare una messa in scena oppure portare un dato ingannevole, oppure dirvi che all'app qui di Milano non c'è nessuno che si sta facendo vaccinare. Non è così. Devo dire che al di là di quello che io potevo aspettarmi c'è tanta gente, troppa gente secondo me, e questo non è un fatto ovviamente positivo tutt'altro, è un fatto preoccupante ma dimostra ancora una volta come la gente è terrorizzata, è spaventata e come i media di regime, i media di sistema stiano influenzando le persone. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.